Marina di Ginosa in festa per la festa della birra, la più grande d'Italia, con i suoi 25.000 metri quadri di estensione, 2.000 posti auto per parcheggiarvi comodamente e i 3.000 posti a sedere nel grande parco di Contrada Pizziferro. Numeri da capogiro presentati ufficialmente stamane in conferenza stampa tenuta nel parco comunale di Marina di Ginosa, alla presenza del sindaco Vito De Palma, dell'assessore al turismo Leonardo Galante, del responsabile marketing dell'evento Daniele Lavarra e del direttore artistico della festa della birra e sagra dei sapori, Rodolfo Patella, intervenuto ai nostri microfoni per presentarci la manifestazione che dal 19 luglio al 31 agosto rivoluzionerà il modo di trascorrere le serate estive dell'intero arco ionico. La cosa più importante fa riscoprire la Puglia e soprattutto i nostri sapori. In questi 44 giorni abbiamo già le nostre 39 date confermate fra lunedì Bali Caraibici, abbiamo le cover, vi potete divertire a San Lorenzo con i nostri Pink Floyd e che più ce n'è più ne metta. Una sagra permanente dove non mancheranno buon cibo locale e ottime birre bavaresi. Non mancherà la sicurezza per i più piccini grazie all'area attrezzata Baby Park, dove potranno divertirsi sotto gli occhi del personale altamente qualificato e per i più grandi. Una sicurezza curata nei minimi dettagli grazie al binomio vincente con il sito beviresponsabile.it. Abbiamo istituito questa campagna, o guido o bevo, che è una cosa secondo me che diamo anche una sicurezza. Però tu dici, ma io mi devo sacrificare per una notte. Ebbene sì, non ti preoccupare, sai perché? Perché sarai premiato. Praticamente questa campagna ti aiuterà semplicemente mantenendo un tuo riconoscimento di questo braccialetto colorato e all'uscita verrà riconosciuto e ti faranno, gratuitamente sicuramente, questo test. Se raggiungi lo 0-0 sarai premiato e la prossima volta è tutto free. Una manifestazione coinvolgente, quindi unica nel suo genere, dà l'impatto devastante. Un vero tocca sana per il nostro territorio. Sicuramente è un'offerta dal punto di vista turistico importante e una novità, tutto sommato, perché non si era mai realizzata in questi termini. Io voglio auspicare che ci sia un ritorno sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di immagine per il nostro territorio. Intorno al turismo io continuo a sostenere che il segmento del turismo è quello che più di tutti oggi consente di dare risposta dal punto di vista occupazionale. Certo, non in termini così indeterminati, ma sicuramente oggi è l'unica speranza che abbiamo, unitamente a quella che è la nostra ricchezza, che è quella dell'agricoltura. Chiaramente investire sul turismo significa anche guardare al futuro, quindi queste iniziative dovrebbero consentirci proprio di andare in quella direzione. Grazie. Grazie.